Teo Mammucari ha una figlia bellissima, è uguale alla sua mamma, ex compagna del conduttore Teo Mammucari è nato a Roma il 12 agosto del 1964, sotto il segno zodiacale del leone Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando ha iniziato a collaborare con il noto talk di Canale 5 Scherzi a parte, dove figurava negli scherzi ai VIP Tuttavia, il successo per lui arriva nel 1998 e, diviene uno dei volti di spicco della televisione italiana l'anno successivo, quando è tra gli inviati delle Iene Da quel momento in poi, la sua carriera è decollata e, il conduttore non si è più fermato Oggi è considerato come uno degli uomini più carismatici, simpatici ed irriverenti dello spettacolo nostrano Teo Mammucari è nato e cresciuto a Roma, ha frequentato l'Istituto Tecnico Professionale ed in seguito ha deciso di iscriversi al Conservatorio Teatrale Scaletta Ha capito ben presto di avere una propensione per lo spettacolo ed ha iniziato da giovane a farsi le ossa nei villaggi turistici Teo Mammucari ha una figlia bellissima, chi è Giulia.Inizia così a farsi strada nel mondo dello spettacolo e, a poco a poco, grazie ad un provino entra a far parte nel cast di Scherzi a parte Teo Mammucari è stato molto chiacchierato anche per la sua vita sentimentale, ha avuto diversi flirt con alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo La relazione più importante è quella che ha vissuto con la modella ed ex Delina, Thais Susa Winters La loro relazione è iniziata nel 2006 e nel 2008 sono divenuti genitori di Giulia La coppia è però scoppiata nel 2009, ma sono rimasti in buoni rapporti, anche per il bene della piccola Oggi la figlia di Thais è Teo Mammucari ha una giovane donna e somiglia moltissimo alla sua mamma Nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, Teo che ha partecipato al dance show, ha ricevuto una sorpresa speciale Il conduttore infatti si è visto recapitare sul palcoscenico un palloncino, in seguito alla sua performance, da sua figlia Giulia La ragazza ha lasciato di stucco i telespettatori per bellezza e dolcezza In tantissimi hanno fatto i complimenti al conduttore per l'educazione e la raffinatezza della giovane Teo ha un bellissimo rapporto con sua figlia, ha saputo anche grazie all'intelligenza della sua ex compagna, coltivare un solido legame con lei Intervistata da Millie Carlucci, la giovane a Ballando con le stelle si è detta molto orgogliosa di suo padre e del suo percorso nello show